Grazie Alessandro, allora io incomincio intanto, buonasera a tutte e a tutti, inizio intanto a condividere lo schermo e a raccontarvi insomma di che cosa mi piacerebbe parlare in questo mio intervento introduttivo. Mi piacerebbe insomma fare sostanzialmente tre cose, intanto provare ad inquadrare diciamo il contesto e quindi di che cosa parliamo quando parliamo di giustizia penale minorile. In secondo luogo vorrei fornirvi alcuni numeri sul sistema della giustizia penale minorile sia sul piano nazionale che sul piano poi locale, quindi insomma due parole sull'istituto Ferrante a Porti di Torino per poi in conclusione diciamo il mio intervento provare a insomma presentare un po' di quelli che possono essere considerati un po' i nodi critici del sistema penale minorile odierno, è un po' il diciamo la prospettiva dove dove stiamo andando. Dunque innanzitutto provo intanto a fare la presentazione così ecco. Dunque partiamo dal contesto. Quando parliamo di giustizia penale minorile come accennava prima Alessandro in realtà facciamo riferimento non soltanto strettamente all'ambito dei minori intesi come minorenni. Nel senso che il Dipartimento per la giustizia minorile di comunità che è questo insomma organismo che esiste diciamo dal 2015 nel senso che nel 2015 sono stati accorpati la giustizia minorile e la giustizia di comunità quindi sostanzialmente l'esecuzione penale esterna eh di cui eh avete se non sbaglio già insomma parlato qualche qualche incontro fa. Eh ecco questo Dipartimento per quanto riguarda la giustizia minorile ha incarico eh sia i minori autori di reato che sono quindi i ragazzi di età compresa fra i quattordici e diciassette anni sia anche eh i giovani adulti e quindi sostanzialmente eh ragazzi ragazze e ragazzi di età compresa fra i diciotto e venticinque anni eh che hanno però compiuto un reato da minori. Quindi il nostro sistema penitenziario in generale è caratterizzato dal fatto che eh sostanzialmente noi abbiamo giovani adulti sia eh nell'ambito diciamo nella giustizia penale minorile sia eh nell'ambito del invece del sistema penale per adulti perché se invece ovviamente il reato è commesso già dopo i diciotto anni immediatamente si va eh a finire nel sistema penitenziario eh per gli adulti. Eh mentre se si è commesso il reato diciamo prima dei diciotto anni ma si compiono diciamo si compie la maggior età mentre si sta eh scontando una pena in un istituto di pena minorile ehm ecco che il nostro diciamo il nostro sistema permette fino ai venticinque anni di eh continuare a restare nel sistema penale minorile. Questo diciamo per la razza che sta dietro a tutto questo ovviamente l'idea di salvaguardare eh comunque giovani perché anche insomma non è detto che al compimento del diciottesimo anno insomma ci sia ovviamente questo immediato eh scatto all'età adulta eh e e quindi come dire il fatto di poter restare in un sistema che è quello degli istituti penali minorili dovrebbe consentire di evitare quello che è il diciamo l'incontro con eh il mondo del carcere adulto che come avrete iniziato ad intuire insomma è un mondo con tutta una serie di problematiche e criticità che sono estremamente amplificate rispetto a quello che vedremo essere eh il sistema penale minorile non che sia quest'ultimo si è esente ovviamente da tutta una serie di di criticità. Ehm ecco questo quindi è un primo dato. Quando parliamo di sistema penale minorile eh insomma abbiamo sostanzialmente mh due grossi tipologie eh di ragazze e ragazzi che vedremo eh diciamo vanno incontro anche a eh collocazioni per esempio negli istituti in in sedi separati diciamo in sezioni separate aiutano gli stessi istituti e tendenzialmente si tende a diciamo far fare delle attività in maniera separata. Anche qui per tutelare a maggior ragione i veri e propri minorenni rispetto a coloro che magari in alcuni casi hanno già fatto un passaggio insomma anche al carcere per adulti no? E quindi o comunque che hanno contatti con con la criminalità magari già più eh diciamo di un certo di un di uno spessore anche qui in parte diverso. Eh la seconda diciamo grossa caratteristica del della giustizia penale minorile eh riguarda il fatto che fortunatamente possiamo dire la carcerazione eh per i minori rappresenta eh effettivamente l'extrema razio mh eh nel senso che qui vi ho dato alcuni dati molto insomma eh sinteticamente insomma un quadro di dati per dimostrare come il grosso dell'esecuzione penale eh minorile in realtà stia fuori dal carcere eh nel senso che noi abbiamo tutta una serie di istituti eh la messa alla prova per esempio in cui abbiamo al momento più o meno duemila ottocento tra ragazze e ragazzi eh e che sostanzialmente un istituto che consente di evitare non solo il carcere ma anche eh lo stesso procedimento penale anche di questo forse avete già parlato affrontando le misure le misure alternative nel senso che la messa alla prova è stata applicata insomma da qualche da un po' di anni ormai è stata applicata anche al mondo degli adulti proprio alla luce diciamo dell'esperienza positiva che eh ha riscontrato eh nel sistema minorile dove invece è attiva da diciamo da molto più tempo ehm ecco messa alla prova tutta una serie di misure alternative a cui possono accedere ai ragazzi ehm la permanenza in comunità è un altro insomma aspetto diciamo un'altra fetta importante della di quello che è il sistema della giustizia penale minorile eh per cui propriamente negli istituti penali minorili noi abbiamo eh e qui vi ho riportato i dati eh a a settembre di quest'anno abbiamo quattrocentoventisei persone mh eh proveremo fra poco a ragionare in maniera un po' più dettagliata su chi sono questi quattrocentoventisei ragazzi ma intanto per dire che appunto siamo di fronte ad uno spaccato sicuramente minoritario eh di tutta quella che è la eh il sistema dell'esecuzione penale minorile ehm tra parentesi vi cito tutta una serie di dati ovviamente le slide saranno lasciate a disposizione ma anche vi allegherò insomma o insomma allegherò una serie di dati più ancora più diciamo approfonditi pubblicati dal eh dal dipartimento della giustizia minorile quindi tutte le cose che sto citando le ritroverete in maniera oltre che in queste slide anche in maniera più compiuta in questo in questo documento che poi sarà sarà messo a disposizione ecco una nota intanto però eh sulle comunità che rappresentano come dire già eh un altro aspetto un altro tema molto rilevante di questo di questo spaccato eh intanto balzi vi balzerà immediatamente agli occhi eh la diciamo forte sproporzione fra comunità ministeriali ehm che sono soltanto venti in tutta Italia eh venti intendiamo i ragazzi insomma in queste comunità presenti in queste comunità che si trovano a Bologna, Catanzaro e Reggio Calabria. Il grosso delle comunità eh sta invece nel privato. Quindi abbiamo molte più comunità private eh che sostanzialmente accolgono i percorsi di uscita per chi ha fatto insomma ha passato un certo periodo nell'IPM o comunque in cui scontare una una misura alternativa, un periodo anche di messa alla prova talvolta eccetera eccetera. Eh quello delle comunità è un tema e lo vedremo perché c'è una significativa carenza mh sul piano nazionale c'è un grande bisogno di comunità ehm che effettivamente faticano in questa specifica fase ad accogliere eh ragazze e ragazzi che escono dal mh diciamo che che entrano meglio nel circuito nel circuito penale e dopo insomma dirò anche due due cose su questo. eh l'altro dato che da questo insomma breve slide eh balza immediatamente agli occhi è la sproporzione fra maschi e femmini eh che è un dato che riscontriamo anche insomma nel eh nel mondo degli adulti dove all'incirca insomma le donne da sempre costituiscono fra il tre e quattro per centi della popolazione detenuta e anche nel caso eh della giustizia penale minorile eh noi abbiamo sedici ragazze su quattrocentoventisei eh in totale quindi anche qui si riflette eh insomma questa questa distinzione questa questa ampia diciamo differenza. Ecco ehm il secondo aspetto su cui appunto volevo eh insomma introdurre eh il mio diciamo questa mia breve presentazione è appunto quella della residualità. Eh noi sappiamo che il modello diciamo il modello italiano della giustizia eh minorile è da sempre un un vero e proprio modello eh nel senso che ehm da tempo insomma è stato considerato particolarmente all'avanguardia da sempre stato eh anche per molti aspetti imitato da altri sistemi eh nazionali proprio grazie appunto al fatto che a partire dall'emanazione del insomma del codice per i minori eh nel millenovecentottantotto eh e finalmente si è riusciti ad applicare eh diciamo a considerare superiore i bisogni educativi dei ragazzi rispetto a quelli che sono i bisogni punitivi a cui un sistema di questo di questo tipo eh deve comunque rispondere. Ehm quindi da tempo storicamente eh possiamo dire che uno dei pochi aspetti su cui il nostro sistema penitenziario effettivamente ehm è da considerarsi all'avanguardia. Anche qui ehm c'è qualche segnale in controtendenza nel senso che negli ultimi già da qualche anno e dire le ultime diciamo novità eh sul sul campo in realtà ci lasciano un po' come dire di preoccupazione rispetto a dove stiamo andando. Eh nel senso che questa residualità per varie ragioni ehm inizia ad essere un po' un po' a rischio e su questo ehm direi appunto due cose magari in chiusura eh rispetto per esempio alla crescente come dire richiesta di abbassare l'età imputabile. Noi sappiamo che nel nostro sistema l'imputabilità c'è la possibilità di essere sottoposti, essere perseguiti penalmente eh eh a quattordici anni eh qua e là insomma di tanto in tanto c'è chi richiede di abbassarla a dodici anni come avviene in alcuni altri paesi. Questo da un lato. Dall'altro lato abbiamo insomma una tendenza all'espansione della punitività nei confronti dei minori di cui eh il insomma il disegno di legge ormai legge da da ieri cosiddetto caivano insomma rappresenta sicuramente un esempio eh paradigmatico e su questo appunto mi concentrerei poi tra poco nella chiusura in realtà del dell'intervento. Questa slide diciamo che è per rappresentarvi invece eh ancora una volta eh la quota quanto sia minoritario diciamo il 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 ricorso alla carcerazione. Vedete che eh la quota in verde il 2,7 per cento rappresenta eh le ragazze e i ragazzi eh detenuti in IPM in Italia. Tutto il resto è rappresentato da ragazze e ragazzi che sono comunque presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i minori. eh qui abbiamo i dati a fine anno dello fine diciamo dicembre del duemila e ventidue ma sostanzialmente i dati sono gli stessi. Ehm e quindi il grosso ancora una volta sta fuori dal carcere. Dire che il fatto che il grosso stia fuori dal carcere ovviamente non significa che la grande attenzione verso il DPM eh sia come dire non sia significativa. Anzi ehm ovviamente è un'attenzione necessaria assolutamente auspicabile eh sia in termini di risorse eh da investire in questo ambito ehm sia soprattutto anche nell'ottica di eh come dire prestare molta attenzione a un tema diciamo un ambito che ovviamente rappresenta un forte rischio per la crescita dei minori. La detenzione ovviamente per un minore eh può avere un impatto che è chiaramente molto più devastante che non che non per gli adulti. Ma diciamo che il sottolineare la residualità da un lato ehm può anche lasciare aperta in porta la riflessione su un possibile superamento degli del diciamo della della detenzione minorile. Eh nel senso che noi parliamo di all'incirca quattrocento ragazzi di cui minori, minorenni, effettivi sono all'incirca la metà e eh con questi numeri come dire si può effettivamente ragionare sul implementare diciamo ancora di più quello che c'è fuori e ipotizzare quantomeno ehm il superamento del dell'istituzione degli istituti penali minorili. ecco ma quali sono e chi ci sta in questi eh istituti? Allora qui abbiamo i dati eh al quindici settembre sono gli ultimi dati pubblicati dal dal Dipartimento per la Giustizia minorile ehm sono sostanzialmente eh abbiamo sia i dati di flusso quindi da inizio duemila e ventitré fino al quindici settembre noi abbiamo avuto mille duecentotrentuno ingressi quindi vuol dire che mille duecentotrentuno ragazze e ragazzi sono entrati eh in IPM suddivisi per i vari istituti che vedete in totale sono diciassette sono tutti istituti eh maschili tranne eh Pontremoli che è l'unico diciamo istituto totalmente femminile e eh Roma e eh non ricordo l'altro istituto eh che hanno una sezione femminile o adesso non ricordo dove fosse l'altro comunque questo è un dato che posso a cui posso risalire eh per il resto sono tutti eh diciamo istituti maschili eh avete il dato sulle presenze medie quindi vediamo che i numeri sono ovviamente molto più bassi rispetto eh a quello che è il mondo della della detenzione degli adulti ehm e poi abbiamo i dati sulle presenze il quindici di eh settembre. Qui qualche eh diciamo riflessione invece su eh quelle che chiamiamo sempre le caratteristiche diciamo socionografiche delle delle persone detenute eh in particolare l'età il genere e eh la nazionalità. Eh allora per quanto riguarda eh l'età noi appunto in realtà i minori a livello nazionale questi sono i dati ovviamente lo spaccato nazionale eh i minori rappresentano al momento eh il cinquantasette virgola tre per cento. Duecentoquarantaquattro tra ragazze e ragazzi. Giovanni adulti sono centottantadue quindi comunque siamo diciamo che oscilliamo eh negli ultimi anni è un po' cresciuta la proporzione dei minori e anche su questo dirò alcune cose dopo ma in linea di massima insomma siamo più o meno su su questi numeri. Eh per quanto riguarda la nazionalità vedete che eh la la gli stranieri diciamo che sono la maggioranza eh con grosse differenze fra gli istituti ci confronta ci diciamo soffermeremo un attimo dopo sulla situazione di Torino e vedremo che in realtà su Torino il dato è eh molto più alto delle presenze di stranieri eh ma su scala nazionale abbiamo cinquantatelle virgola otto per cento di stranieri il quarantasei virgola due per cento di italiani che è una diciamo un dato che riflette molto dell'anche della detenzione per gli adulti e soprattutto degli ultimi decenni eh gli istituti penali eh per minorili sono in questo ovviamente molto diversi da quello che erano per esempio al all'inizio degli anni novanta. Eh invece pressoché è stabile diciamo la eh come dicevamo prima la mh rappresentanza femminile maschile eh nel senso che le donne le ragazze rappresentano appunto il tre virgola otto per cento del del totale. Per quali tipi di reati sono eh diciamo vengono eh arrestati poi eventualmente condannati i eh ragazzi che entrano in IPM. Allora si tratta innanzitutto di reati contro il patrimonio, furto e rapina eh c'è una rappresentanza di eh reati contro la persona ma in particolare lesioni personali e poi soprattutto eh stupefacenti quindi eh in questo senso il reato la macrocategoria contro l'incolumità pubblica. Eh anche questo è un dato insomma che si riscontra abbastanza eh diciamo in maniera spalmata ma in maniera abbastanza omogenea sul sul territorio nazionale con alcune differenze specificità perché quello delle specificità tra i vari istituti è un'altra questione eh su cui appunto dirò alcune cose in eh in chiusura. Veniamo invece al caso di Torino. Vi lascio insomma un po' di flash, un po' di spunti su cui magari eh poi se ci sono ci fossero domande, richieste di approfondimento insomma possiamo partire da qui. Ehm qualche dato che deriva diciamo che abbiamo ricavato dall'ultima visita che abbiamo fatto come osservatorio di Antigone eh nell'IPM di Antigone Ferrante a Porti il tre di novembre quindi hm pochi giorni fa. Eh in cui vedete i presenti erano quarantacinque e eh la direzione però ci raccontava eh di come fossero arrivati un po' di giorni prima anche a cinquanta presenze che per un istituto come quello di Torino rappresenta già un un significativo livello di sovraffollamento. Ci hanno raccontato insomma di aver dovere di aver dovuto mettere i materassi a terra per qualche giorno per per accogliere tutti tutti i ragazzi perché ovviamente c'è la grossa eh difficoltà e delicatezza di dover separare minori e giovani adulti e eccetera eccetera. Per fortuna la situazione è durata solo qualche giorno ma c'è diciamo un po' eh un aumento rispetto a a dati insomma che erano un po' più bassi fino a un po' di tempo fa. Per quanto riguarda la nazionalità eh rispetto alla situazione diciamo a livello nazionale eh vedete che c'è una grossa sovrarrappresentazione degli stranieri che sostanzialmente sono i tre quarti. Ehm è una caratteristica tipica eh degli istituti del centro nord in questo c'è una grossa differenza tra il nord e il sud Italia gli istituti del nord ehm nel senso che al nord osserviamo un degli ultimi anni un frequente ingresso di minori stranieri non accompagnati eh che tra l'altro contribuiscono hanno contribuito anche ad abbassare l'età media perché sono ragazzi sempre più giovani quindi questo ha fatto sì che negli ultimi anni sia diciamo che i minori abbiano sostanzialmente soffassato tra virgolette in percentuale ehm i giovani adulti. Ehm e lo vedete insomma qui abbiamo eh i minori sono il giorno della visita erano trentadue quindi più del settanta per cento i giovani adulti soltanto tredici. Questo ovviamente richiede come dire anche all'istituzione di adattare eh le metodologie e le forme trattamentali rispetto a eh questa popolazione diciamo questi questo spaccato di realtà sociale che che muta e che e che cambia. Ehm un nodo problematico sicuramente rappresentato dalla dicevo dalla difficoltà di inserire eh i ragazzi nelle comunità esterne. Quindi spesso accade che eh il giudice stesso disponga eh diciamo che anziché eh la convalida dell'arresto disponga l'invio in comunità ma si fatica a trovare una comunità eh disponibile ad accogliere eh i ragazzi. Questo negli ultimi anni ci è stato raccontato negli ultimi mesi soprattutto ci è stato raccontato dalla direzione eh ha significato per esempio trasferire i ragazzi in regioni del sud Italia. con notevolissimi problemi sia in termini di violazione del principio di territorializzazione per cui insomma la pena dovrebbe essere scontata il più possibile eh vicino a luogo in cui la ragazza o ragazzo comunque può avere una rete di riferimento sia in termini di organizzazione perché significa che insomma la polizia penitenziaria fa la spola su e giù per l'Italia per accompagnare per accompagnare i ragazzi. Oltre a creare problemi diciamo nella accoglienza da parte delle comunità eh delle altre regioni che anch'esse insomma hanno bisogno di attrezzarsi sul piano della formazione eccetera per gestire problematiche nuove e e diverse. e in questo senso veniamo eh all'ultima parte diciamo ad alcuni nodi critici ehm partendo diciamo dai da quello che abbiamo osservato nel caso specifico di Torino, dell'IPM di Torino per poi provare ad allargare eh la riflessione al piano al piano nazionale. Ehm quindi mh l'abbassamento dell'età e la crescente presenza di minori strani erano accompagnati e tutte le difficoltà che questo eh comporta nell'organizzazione dell'istituto e nella nell'individuare proprio delle risposte per i eh insomma i bisogni espressi ehm da questi ragazzi. Eh che appunto presentano una complessità crescente. Sono moltissimi casi di doppia diagnosi cioè di ragazzi che entrano con astinenza da sostanze le più vaglegate sempre più spesso sostanze insomma sintetiche piuttosto che psicofarmaci a cui si accede nel mercato illegale sul territorio eccetera eccetera. Eh e parallelamente appunto sofferenze psichiche che molto spesso poi contribuiscono a determinare quegli atti di autolesionismo che in alcuni casi sono anche probabilmente eh come dire di tipo strumentale per insomma ottenere diciamo ascolto, ottenere risposta a determinate richieste ma che comunque denotano una un quadro di sofferenza sociale e psicosociale, sociosanitaria, non so prende anche bene come 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 chiamarla ma sicuramente un gran livello di complessità. Eh e i fenomeni di autolesionismo sono all'ordine se non del giorno comunque sono avvengono settimanalmente in un istituto come quello di Torino ma come probabilmente in tutti gli istituti. Eh sulla carenza delle comunità esterne appunto ho già ho già detto questo ovviamente che si chiama in causa il raccordo fra fra le varie strutture. Eh ecco un altro nodo critico è rappresentato dall'area sanitaria. Eh perché ehm anche qui diciamo alcune questioni specifiche per esempio nell'istituto di Torino non è presente il medico la notte. Eh e soprattutto eh la neuropsichiatria ha pochissime ore presente sostanzialmente quattro o quattro ore alla settimana che è considerato dall'area sanitaria che opera nell'istituto eh un ovviamente un monte ore eccessivamente limitato per poter come dire prendere in carico tutti quelli per cui si ritiene sarebbe importante offrire un un supporto e un sostegno di questo tipo. Eh sappiamo che insomma la psichiatria ovviamente in sofferenza in tutto anche anche nel territorio ma ovviamente dentro dentro al penitenziario e soprattutto in un IPM insomma questo può eh creare una serie di aggravi di di complessità delle situazioni che che riscontriamo. Eh in chiusura sul diciamo per portare un po' queste riflessioni invece sul piano sul piano nazionale. Ehm dicevo all'inizio appunto che eh siamo diciamo se il sistema della giustizia minorile italiana è sempre stato caratterizzato da appunto dalla parola residualità no? Quindi dalla eh possibilità di utilizzare davvero il carcere come come estrema razio eh ultimamente assistiamo sempre più di frequente a delle spinte eh in senso punitivo cioè mh in senso punitivo per esempio eh che sempre più provano diciamo mh propongono di avvicinare quella che è quello che è il trattamento dei minori a quello che è il trattamento degli adulti perdendo quell'elemento ovviamente di primato della dell'istanza della necessità del bisogno educativo che è rappresentato da dai ragazzi che 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 mettono in atto dei dei reati. Ehm su questo eh ovviamente come dire il la questione del DL Caivano a cui a cui accennavo. Voi sapete che insomma si tratta di un eh non più un decreto legge in realtà le slide sono già vecchie nel senso che è stato poi convertito in legge ehm che eh si intitola misure urgenti in contrasto al disagio giovanile alla povertà educativa e alla criminalità minoria e nonché alla sicurezza dei minori in ambito digitale. E una diciamo era un è stato un decreto legge eh molto complesso che presenta insomma eh a mio avviso eh tutta una serie di problemi e di criticità. Eh su questo ehm lascerei anche tra i materiali legati una un documento che ha preparato Antigone come commento proprio al al decreto legge insomma un documento dettagliato in cui punto per punto si spiega eh che cosa non funziona dal nostro punto di vista eh in una in una scelta norma legislativa normativa di questo tipo. Ma eh giusto due parole appunto eh per lasciare poi spazio agli altri relatori. Eh innanzitutto il decreto è stato emanato come sapete ehm sull'onda diciamo dell'emotività suscitata da un fatto drammatico eh che che ha insomma riscosso l'attenzione ovviamente a livello nazionale con lo strumento della decretazione d'urgenza ma in realtà eh come dire in assenza di eh una oggettiva eh preoccupazione d'emergenza rispetto a un'impennata della criminalità minorile. Se noi guardiamo i dati sulle denunce eh nei confronti dei minori negli ultimi dieci anni tra il 22 tra il 2012 e il 2022 il numero di denunce è sempre oscillato fra le 30 alle 34 mila più o meno diciamo con un po' di oscillazioni ma siamo stati su questi su questi numeri. Quindi come dire ehm non al di là della gravità della drammaticità del fatto in sé però se guardiamo al sistema complessivo eh non possiamo dire non possiamo riscontrare un'oggettiva emergenza criminalità. Ehm questo decreto in realtà ha ampliato la punitività nei confronti dei minori eh sostanzialmente in due modi potremmo dire da un lato eh ampliando la possibilità di ehm ricorrere al al dasco urbano che voi sapete essere una misura di prevenzione che si qualifica come tutta una serie di limitazioni alla libertà personale diciamo nel movimento nello spazio all'interno della della del contesto urbano eccetera eccetera una misura che nasce diciamo dal punto di vista sportivo no il dasco il più noto è il daspo sportivo quindi l'impossibilità di accedere agli stadi ad altri luoghi di natura sportiva eh ma poi sempre più ampliato diciamo a a vari contesti urbani eh per le più varie ragioni è un provvedimento preso dal questore ehm e il decreto caivano eh sostanzialmente ampia la possibilità di utilizzarlo anche per i ragazzi fra i quattordici e i diciotto anni è una misura che eh diciamo che ehm intanto a noi preoccupa soprattutto perché eh si perdono le garanzie del diritto penale eh nel senso che eh ovviamente il diritto penale è sottoposto a giurisdizionalizzazione che vuol dire tutelare diciamo c'è un giudice a cui comunque si può ricorrere in questo caso c'è molta più discrezionalità nell'applicazione e questo ovviamente può rappresentare un un problema eh quindi diciamo nel complesso si tratta di fornire una delle risposte soprattutto simili di carattere simbolico forti ferme eh nei confronti appunto di una supposta emergenza criminalità minorile che appunto i dati però non non confermano davvero in chiusura l'impatto del decreto poi specificatamente su DPM eh allora qui mh spero ovviamente di smentirmi ma il concreto rischio che aumentino gli ingressi eh di minori in carcere ehm appunto mh potrebbe potrebbe verificarsi ehm perché soprattutto perché il decreto prevede la possibilità diciamo maggiori possibilità di ricorrere alla custodia cautelare per i minori cioè eh sostanzialmente la possibilità di mandare in carcere i ragazzi in attesa del processo cosa che in questo momento è possibile eh diciamo che se la se la pena massima prevista per quel reato è di nove anni il limite è abbassato a sei anni questo significa che per tutta una serie di reati è possibile in realtà mandare i ragazzi in carcere in custodia cautelare e questo potrebbe eh diciamo far aumentare notevolmente gli ingressi poi c'è anche la possibilità eh introduce questo decreto la possibilità eh diciamo di ehm allontanare i ragazzi dall'istituto eh per una generica diciamo ehm come dire eh la dicitura è abbastanza generica no? Il turbamento dell'ordine degli istituti che è una dicitura un po' generica eh per cui mh anche qui il livello di discrezionalità nel poter mandare via sostanzialmente qui non i minorenni ma soltanto i giovani adulti e mandarli eh nel carcere per gli adulti eh può diventare anche qui essere eletto diciamo in chiave punitiva nel senso che noi ovviamente sradichiamo comunque un ragazzo da un contesto che per alcuni aspetti rimane un contesto protetto per inviarlo appunto alla alla scuola del crimine che che è rappresentata dal dal carcere per gli adulti. Io mi fermerei qua eh vi ringrazio e e io mi fermerei qua eh